Ciao a tutti, a pranzo abbiamo fatto un risotto con le lenticchie, pasto light e completo. Per tenersi sul leggero, a cena andiamo a preparare delle polpettine che faremo cuocere in un brodo di carne. Allora, prendiamo la nostra carnitrita, per stare sul mago prendiamo la sceltissima, poi prendiamo, io ne ho qua tre e mezzo, faccio una porzione per due, ma tre e mezzo, poi prendo delle melanzone grigliate, che ho trovato ancora nel congelatore, così ad esempio le ho passate sulla piastra, le tagliamo, in questa maniera qua, le andiamo a mettere insieme alla nostra carne e ho fatto cuocere due cubetti di spinaci, andiamo a mettere anche quelli insieme alla nostra carne. Andiamo a condire il tutto, andiamo a condire con la mescata magica delle spezie, andiamo a prenderci un nostro misto per le carni, che così dà gusto. e andiamo a prendere, vediamo un po', cosa abbiamo qua, cosa abbiamo qua, il dragoncello, che a me piace molto, nella carne gli dà quel gusto, e un pochettino di prezzemolo, che nelle polpette ci sta sempre bene. Ok, perfetto, se volete dargli del piccante che vi piace potete aggiungerci leggermente di piccante, io le metto ancora un pochettino di miscello per couscous, che è quella che ho messo oggi nel risotto con lenticchie, che è sempre molto buona. Inizio a mischiare bene. Non metto sale, perché mettendo tutte queste spezie qua, e poi andando a cuocerlo in un brodo di carne, rimane già molto gustoso. Io avevo del brodo di carne che avevo messo nel congelatore, quando avevo fatto il bollito con l'osso, quindi ho fatto un bollito con l'osso un po' di tempo fa, mi era avanzato il brodo, e per non buttarlo l'avevo messo nel congelatore. E oggi mi serviva. Allora, ho tirato fuori, l'ho rimesso sul fuoco, lo sto portando a bollizione, così una volta che le nostre polpettine sono quante, le posso tuffare all'interno del brodo. Le facciamo bollire qui 12-15 minuti. Allora, a me le polpettine piacciono non troppo grosse, quindi andiamo a fare una polpettina più o meno di queste dimensioni qua, si vede, perfetto. E procediamo con tutto l'impasto. Ecco qua il nostro brodo, ok, l'ho anche riusciato un po' a farvi vedere, non mi importa tanticene tanto, andiamo a prendere le nostre polpettine, e le mettiamo all'interno, le tuffiamo, letteralmente all'interno, e facciamo guagliere per 12-15 minuti. Ecco qua le nostre polpettine, queste andiamo a completare, io le ho messe tutte nel contenitore, per non lasciarle in tutto questo brodo, perché comunque c'è tanto. Però a me piacciono col brodo, quindi vado a comunque messerlo, ad aggiungerci un pochettino di brodo, le mie polpettine, che così rimangono belle umide, ecco qua. E le polpettine in umido sono pronte, anzi non in umido, bollite sono pronte, non ci resta altro che aspettare cena, accompagnarle a una bella insalata, o alle verdure grigliate che abbiamo avanzato, e mangiare.